E' il giorno di Davide Ballardini al tenente onorato, il nuovo allenatore Rosanero è arrivato intorno alle 14 presso il centro sportivo di Bocca di Falco, ha salutato i dirigenti Rosanero e ovviamente ha preso contatto prima con il capitano Stefano Sorrentino e poi con il resto del gruppo. Un discorso in campo, prima con l'ausilio del direttore Gerolin, poi stringendo la mano a ognuno dei giocatori Rosanero, parole chiare, quello che Ballardini si aspetta dai suoi nuovi giocatori. La seduta è iniziata poco dopo, in particolare con un riscaldamento di carattere atletico, quindi esercitazioni di carattere tecnico, la seduta si è poi chiusa con una partita in campo ridotto. Francesco Bolzoni e Michel Morganella hanno svolto un allenamento differenziato, da oggi svolgono alcuni esercizi con il pallone, con il resto del gruppo saltando però la partita finale. Allenamento differenziato anche per Luca Rigoni, ha iniziato invece l'attività di riatletizzazione Uros-Giurgevic. Domani la squadra di Ballardini sosterrà una doppia seduta, sempre qui al tenente onorato.